un'intervista col pilonco in mano comunque sta registrando salve buongiorno carissimi carissime buonasera per chi lo vede stasera qui abbiamo una domanda siccome molti chiedono e ci stanno anche strappazzando ci stanno dicendo che sarebbe utile sapere esattamente il significato del canale abbiamo detto del canale Canal 104 Plus cos'è il significato di Canal 104 Plus? siccome oggi abbiamo come si chiama lei? Nostra Antonio oggi abbiamo Nostra Antonio che si fa vedere Nostra Antonio 2.0 Nostra Antonio Plus che ci spiegherà esattamente il significato della parola del canale 104 Plus ecco perché lei che ha ideato questo canale con noi tre con noi quattro con questo nome ma non avrò mica un significato esoterico? 104 uno è l'uno è la verità per ora l'unità l'uno davvero 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 per piacere non interrompa è una cosa seria questa l'uno nel senso dell'uno ah non l'unità il giornale no l'uno 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 non si allarghi troppo per un piacere 0 sta per 0 il vuoto il nulla se possiamo dire ah e in Veneto è niente l'uno l'uno niente io devo stare a dirlo in Napoli Napoli tre maschi e una donna e anche le donne contano io direi una donna e tre maschi ecco ecco una donna e tre uomini meglio il video non deve essere troppo ok il plus il plus ragazzi sta per tutti tutti voi che state nel canale grazie grazie veramente tutti insieme grazie a cada 104 plus